buongiorno buongiorno a tutte d'antinori benessere moda abbiamo tutti quanti gli interi che sono veramente fantastici con dei colori splendidi vestibilità ottima comfort al 100 per cento perché al mare dobbiamo sentirci anche comode e sicure nei movimenti colori ce ne sono tantissimi così come modelli e poi e poi ci sono anche i fuori acqua coordinati con i costumi sempre di annetta rosapalla guardate questo modellino qui è il luella quest'anno lo presenta con questi fiori e questo costume arriva fino alla taglia 62 poi anche questo modello qui il michelle che è un modello che anita presenta da qualche anno ha una vestibilità veramente ottima e questa arricciatura snellisce molto nella linea giovane di rosapalla quest'anno ci propone questo costume double fuzz questo si può portare a tinta unita e sembra un costume normale dritto ma dentro c'è un reggiseno che sostiene molto bene eccoci qua quindi l'assortimento c'è e io vi aspetto tanti nori benessere moda ha una cosa particolare i costumi dello scorso anno quindi moda mare 2022 sono in sconto al 50 per cento e su questi costumi di quest'anno c'è in regalo una borsa mare offerta danita vi saluto e vi aspetto tanti nori benessere moda ciao